scusate a rossette ciao a tutti ragazzi benvenuti bentornati e ben ritrovati in questo nuovissimo video ASMR allora oggi spero riusciate a sentirmi bene il video di oggi purtroppo ma anche per fortuna sarà un pochino breve ma ho una sorpresa per voi e cominciamo subito questa è la mia scatola magica e oggi troviamo il trigger di oggi sono sicura che vi ce l'ho tantissimo perché è ipnotico assolutamente ipnotico quindi fatemi sapere tutto tutto già un pochino si comincia a sentire ho deciso di mostrarvelo subitissimo perchè è pazzesco sto parlando di poppy allora questo è l'oggetto di oggi ma non ve lo faccio sentire subito perchè ora scoprirete prima volevo farvi sentire un po' il velluto di questa scatola perchè lo trovo veramente super rilassante premetto anche che in questo video vorrei cercare di parlare il meno possibile e farvi concentrare molto sui suoni che sentirete perchè sono pazzeschi sono due ma sono pazzeschi questo e la pallina e è un suono ipnotico che io me ne sono assolutamente innamorata tanto che l'ho comprata poi pensavo anche a delle idee per i prossimi video in generale sono super 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 casata e non vedo l'ora di filmare e farvi vedere tutto questo video molto molto probabilmente voi lo vedrete ad ottobre ma io lo sto filmando a metà settembre ma io lo sto filmando a metà settembre è pazzesco è pazzesco è pazzesco pazzesco e questo non lo sapevo cioè volevo farvi sentire il test su il velluto ma non questo è veramente wow cavolo mamma mia tra l'altro sono in tinta con il rossetto e la scatola vi dico questo perchè non mettevo un rossetto da 5 mesi tipo non mettevo un rossetto se fosse più il rossetto viagrava ok passiamo adesso a questa magnifica pazzesca fantastica pallina lei è la vita e ora capirete perché fidatevi di me l'ho voluta prendere tutta rosa e la vedrete molto nei miei video smr però ho circa 200 idee per i video smr quindi per i video normali di circa 300 quindi direi che sono messa bene insomma a creatività pronti qui vorrei avvicinare il il microfono e spostare un pochino l'inquadratura leggermente eccola no perdonatemi ci sono allora mi piace farvelo ascoltare in vari modi così però secondo me risulta un po' too much e un po' aggressivo quindi optiamo per perdonatemi prima di farvi sentire questo pazzesco provo a fare un po' di scratching con le unghie sul microfono direttamente scusatemi è arrivata lì là e mi hanno distratto come sempre allora provo a farvi un pochino di scratching sul microfono direttamente con le unghie che tra l'altro sono bellissime nuove e mi dite se vi piace o vi infastidisce perché c'è a chi dà fastidio in base alle risposte capirò ma so già che non mi direte niente perché non commentate mai però vabbè peccato chiudo il canale se non commentate male allora scusatemi scusatemi per questo amore allora cominciamo subito e mi dite cosa ne pensate ok? fatemelo sapere passiamo adesso alla nostra magica pallina comincio con un suono classico che piaceva tantissimo anche a me e credo che farò sempre o soltanto questo ditemi se non è ipnotico siete pronti? lo trovo anche tantissimo un suono super 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 delicato allora questo devo dire che è un po' particolare un po' forte anche questo lo faccio magari per un minuto e poi concludo con qualcosa di rilassante come ho fatto prima e oggi vi darò una buonanotte leggermente diversa dal solito così per provare e nulla mi sto adormentando io provo adesso a mettere la spugna per vedere se il cali è più leggero come come suono ok ho controllato ed è letteralmente pazzesco molto di più con la spugna quindi farò un pochino con la spugna un pochino sulle mani lo alterno spero che questa questa idea che mi è venuta sempre così al momento mi piaccia cioè vi piaccia scusatemi la spugna Grazie a tutti. Wow. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccoci. Ok, cerchiamo di rilassarci sempre molto con calma, però di riuscire a terminare questo video, perché oggi ci sono un po' di pensieri negativi anche per me, quindi voglio riposarmi anch'io, questo mi aiuta moltissimo a riposarmi, ad essere tranquilla e serena, ma è molto più bello se poi posso anche prendere un momento un po' coccola per me, quindi la pallina magica ci aiuterà. Ok. 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 allora ragazzi vi chiedo adesso di pensare di essere alle Maldive e di immaginarveli punto e stop e nel frattempo di ascoltare il rumoro il suono di questa palla ipnotica con gli aculei per un altro minutino circa e di addormentarvi molto serenamente e io vi auguro una buona notte piccoli pasticci un po' di un po' di Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buona notte.